La Chiesa ricorda la figura di Santa Lucia, un'icona per noi cristiani. Santa Lucia è una siciliana ed è nel calendario universale della Chiesa, quindi è celebrata non solo a Siracusa, la sua patria o da noi in Adrano a Belpasso, ma in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, dove si celebra la Santa Messa, oggi la Messa è in onore di Santa Lucia. Credo che il nome che lei porta indica la sua realtà. Lucia fa pensare a luce. Qual è la caratteristica di questa donna? È stata battezzata, era cristiana ed è rimasta fedele al cristianesimo senza nessuna contraddizione. Avrebbe potuto avere una grande fortuna sposare addirittura Quinziano, come si chiamasse il proconsole che governava allora la Sicilia, ha rinunciato a tutto per non lasciare la sua fedeltà a Gesù. Ecco allora che noi, come cristiani, abbiamo in lei un modello che esprimerei con due semplici parole. Osservare tutti e dieci comandamenti di Dio e vivere con il cuore illuminato dalla grazia del Signore. Ecco, Vede Camboggio, tornando su Santa Lucia, le chiedo un'altra cosa, una donna che ha fatto dell'obbedienza a Cristo, il suo modello di vita fino alla morte. Proprio così. Infatti la parola obbedienza, arriva dalla lingua latina, ob audire, e significa ascoltare in maniera motivata. Allora, diciamo così, quello che è la luce per gli occhi, queste sono le parole, i suoni per le nostre orecchie. Noi quale luce dobbiamo avere? Quella di Dio. Quale parola dobbiamo avere dentro di noi? La parola di Dio. Se noi siamo obbedienti alla parola che viene da Dio, siamo dei buoni cristiani e quindi anche dei buoni cittadini. Perché quello che si deve riconoscere è che un buon cristiano è anche un buon cittadino.